Cigep 2023 continua a suon di musica di quattro quarti ci troviamo allo stand di Caffè Toraldo il caffè napoletano sempre più in vista in tutto il territorio italiano e siamo in compagnia di Marco Simonetti il responsabile commerciale Italia, che bello sentire questa musica dance quasi anni 90 Marco Ciao a tutti, ben ritrovato Fabio, è bello sentire questa musica poi mixata a quella che è una musica napoletana classica abbiamo fatto un po' mix di canzoni selezionate dal DJ in maniera che sia sempre presente la nostra napoletanità ben espressa quest'anno devo dire Senza parlare delle partite di calcio ma insomma sendiamo un velo pietoso per tutte le altre squadre che ormai sono molto lontane, io ho visto che il vostro stand è pieno di corni propiziatori, come mai? Quest'anno abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro, abbiamo bisogno di tanta fortuna sempre come tutti e quindi quest'anno l'idea del corno è nata dalla collaborazione storica con Franco Costa a cui abbiamo chiesto un simbolo della napoletanità, volevamo portare in fiera la napoletanità ci siamo riusciti grazie a quest'idea dei corni che poi sono sempre ben voluti non solo dai napoletani ma veramente da tutti e quindi praticamente abbiamo portato avanti questa idea, l'abbiamo là un po' esagerato un po' nell'interpretazione però devo dire che è venuto fuori un bello stand, piace a tutti e piace tanto anche a noi piace anche a noi, ci è piaciuto immediatamente, infatti ho detto facciamo una cosa mettiamoci proprio davanti al banco bar, ormai è fino a giornata per cui tanta gente ha già preso il caffè ma prima c'era davvero tantissima gente qui per prendere il vostro prodotto allora raccontiamo in pochi minuti quali sono le novità della vostra azienda di quest'anno allora quest'anno abbiamo ripresentato in fiera i prodotti che abbiamo lanciato sul mercato quest'anno nel monoporzionato in particolare ci sono diverse novità legate al mondo cialda con crema di Napoli che è una delle nostre ultime presentate più diversi formati nuovi, quelle che sono il prodotto forte e cremoso molto venduto in GTO così come sul resto dei solubili per quanto riguarda le capsule abbiamo anche una novità che abbiamo presentato insieme a Spinel per la macchina per Oreca a Cialde per Oreca, veramente una bellissima novità che poi sicuramente Spinel vi presenterà in maniera più dettagliata però noi abbiamo voluto portarla qui perché veramente ci ha regalato questa estrazione molto molto particolare del prodotto che è stato subito amore a prima vista insomma questa macchina che ne sentirete parlare a breve ne sentirete parlare a breve perché è integrata all'interno del banco quindi si sposa a quelle che sono le esigenze di chi vuole portare una novità nel ristorante, nell'albergo, nel piccolo bar perché no mantenendo però una qualità veramente eccelsa del prodotto quando parliamo di Spinel parliamo di macchine di una qualità davvero altissima ma non dimentichiamo che il prodotto che voi destinate al monoporzionato è di una qualità altrettanto estremamente alta esatto, la macchina è importante così come la Spinel ci sono diverse aziende che fanno ottime macchine ma il prodotto è fondamentale, ci tengo a dire che quest'anno, l'anno 2022, l'anno scorso abbiamo ricevuto questo premio dalla guida Camale Ponte, la guida del caffè come miglior cialda su origini, come miglior cialda Dark Roast, quindi miglior cialda d'Italia Dark Roast per noi è stato veramente un riconoscimento molto importante specialmente per quello che è il settore dell'orega nell'orega noi abbiamo sempre puntato col grani lo stiamo facendo anche con la miscela del caffè in cialde in particolare con origini perché crediamo che un caffè di qualità si possa bere anche in cialda a differenza di quello che dicono in tanti noi pensiamo che la cialda sia un'alternativa più semplice alla difficoltà di molti nella gestione del caffè e allora diciamo quindi infine qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui tutti loro possono scrivere nel caso in cui desiderino maggiori informazioni diventare i vostri clienti, avere dei rapporti commerciali con voi e quindi intraprendere appunto un percorso basato sulla qualità del prodotto allora l'indirizzo di posta è semplice info-caffetoraldo.it tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito www.caffetoraldo.it e niente, grazie Fabio sempre diciamo forza Napoli adesso lo diciamo con tutti i sicorni lo possiamo dire finalmente lo dice beh ragazzi sappiate che io sono napoletano lui è napoletano ma siamo anche circondati da persone che lavorano nel settore dell'oreca che o sono napoletani o sono di tante altre città italiane ma stranamente questa forza è una cosa che non conosci nemmeno tu tifano Napoli in modo incredibile soprattutto quest'anno che al momento almeno il Napoli ha lasciato a 10 punti di distanza la precedente poi 12, poi 15, poi 20 e giù via con tutti gli altri voi siete sponsor ufficiali dell'SSC Napoli in bocca al lupo questo Napoli in bocca al lupo sì e speriamo dai di raccogliere quello che non si dice però speriamo ecco di arrivarci quest'anno e insieme di festeggiare questa grande cosa ecco allora in quel caso ne verrà fuori certamente un'intervista video anche a distanza magari ma qualcosa che vada a celebrare questo favoloso obiettivo grazie, grazie mille grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sorrisi